Crescisti, tesoro, vieniti, vieniti, Crescisti, reagisci, respira, Crescisti, no! Sembra difficile ma non è così facile, oppure sembra facile ma non è così difficile, comunque bravo Riccardo, fra l'altro sono anche molto contento perché Life sta mettendo in evidenza anche dei nuovi talenti, mi permetto di dirlo anche se so che già tu sei un professionista però sei anche giovane, bravo veramente, complimenti Riccardo, benvenuto nel cast di Life. Grazie a te Alex, grazie per l'opportunità, io volevo assolutamente esserci e tu mi hai dato la possibilità di essere nel cast di Life e ricordati che insieme possiamo farcela. Life, il primo film senza immagini, la realizzazione di una colonna audio dove l'immaginazione è la grande protagonista in grado di proiettare ciò che non vedrai. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Film senza immagini, perché l'emozione la vivi ascoltando. Quando sono stata là, io ero io. Life, con le voci più famose che hai conosciuto al cinema e in tv. Trova una soluzione perché il prestito che hai avuto da noi può farti costucarsi i programmi. Life, il primo film senza immagini. Chiudi gli occhi e vedrai.